Ciao, creatura. Io sono Vecca di Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai e S.M.A. Questa sera vedrete questo video che dedico alla persona che me l'ha richiesta, quindi Ilaria. Ciao Ilaria, grazie per aver richiesto questo video, lo faccio molto volentieri. Mi ha richiesto questo video dove si vedono solo le mani e dove faccio sogni con questo libretto e dove parlo in whispering. Ho pensato di parlare della mia giornata di domenica, che in realtà non ho fatto nulla di speciale. Però può essere anche solo un piccolo discorso rilassante, un racconto, per farti vedere un'altra vita, un altro punto di vista. Dall'altra parte, tutti pensiamo di che la domenica, non tutti scusate, alcune persone, non vuoi generalizzare, alcune persone pensano che la domenica tutti siano a casa, che possono dormire fino a tutto l'orario che vogliono, che possono fare la grande colazione e mulino bianco, che vanno magari anche a messa. Sì, penso che all'entrino ci siano molte persone che pensano che sia così per tutti, che vanno poi, non lo so, a fare un giro in centro durante il pomeriggio, se è inverno a bere la cioccolata calda al bar, se è estate a mangiare un gelato, non lo so, cose banali delle persone. Invece, vi racconto la mia giornata di domenica. Ovviamente questo video lo vedrai probabilmente qualche settimana dopo, quindi questa giornata voi ce la saremo già dimenticata, e avrò passato tante altre domeniche diverse, ma io ora sono qui per raccontarti quella domenica dal mio punto di vista, ovviamente. La stessa domenica fatta da tante altre persone, sarà stata un'altra domenica totalmente diversa. Mi sono svegliata verso le due di notte o di mattina, dipende dai punti di vista. Non riuscivo più a riazzormentarmi, perché in questi giorni faccio fatica, ho dei pensieri per via del lavoro, perché sono di nuovo nella situazione nel quale non si sa se lavorerò di nuovo lì, se mi rinnoveranno, quale sarà il mio destino, e quindi sono di nuovo un po' agitata. Però è una cosa molto ingoscia, perché io non ci penso in realtà durante il giorno, ma poi di notte i pensieri, quando spengo la testa per dormire, non fa quello che vuole in automatico. Quindi è così. Mi sono svegliata alle due, non sono più riuscita a riazzormentare, e alle sei mi sono alzata per prepararmi per andare al lavoro. Quindi non avevo più niente da mangiare in casa, quindi non avevo la colazione. Avevo solo optato per tre toroncini che avevo lì a casa. Uno ricoperto di cioccolato fondente con l'incarto rosso, uno con la carta arancione che non avevo idea di cosa fosse, poi l'ho scoperto dopo, e uno con l'incarto blu che sapevo già sarebbe stato con il cioccolato al latte. Quindi, cosa ho fatto? Li ho ferrati le ho insieme al mio zaino, acchiappata la mia colazione, acchiappo anche due vette di pizza che ho cucinato la sera precedente che era avanzata. Quello sarebbe stato il mio pranzo. E poi acchiappo anche una bustina di resfis forte che è l'integratore che sto assumendo ora grazie a una mia creatura che mi ha consigliato questa cosa per i problemi che ho avuto in questi giorni. È medico, quindi. Quindi, ok. Vado verso la mia auto pronta per andare al lavoro e la mia macchina ha solo il vetro del parabrezza. Solo il vetro davanti completamente congelato. Tutti gli altri vetri sono ok. Il dettuccio. Ma chi se ne prega il dettuccio? Congelato. Allora, non mi sono portata via qualcosa per scongelarlo perché pochi giorni fa mia madre mi ha regalato lo spray per sprinare, schiacciare l'auto. Allora, adesso è un'ottima occasione questa per provarlo. Allora, cosa faccio? Scongelo. Allora, inizio a fare come ho letto nelle istruzioni. Cioè facci dare bene la bomboletta. Stare a una distanza di 20 centimetri. Adesso non avevo un righello ma penso che più o meno fosse quella la distanza giusta. Inizio a spruzzare. vedo che in pochi minuti il ghiaccio per magia si scongela e io tutta orgogliosa wow figata. Questo e quell'altro e nel metro avevo già acceso l'auto e la stavo scaldando e quindi tutta contenta. Parto con la mia auto per andare al lavoro di lì a poco il vetro si ricongela e io non vedo più nulla e inizio a pensare e adesso che cacchierò la faccio? Che cosa faccio adesso? Perché lì non c'era posto dove fermarsi ma allo stesso tempo non stavo vedendo nulla di dove stavo andando perché era completamente congelato. quindi per fortuna che era domenica e non è passato nessuno perché era domenica un mattino molto presto quindi nessuno non tutti a letto tranne me che dovevano andare al lavoro mi ricordavo che di lì a poco c'era un studio veterinario ci sono dei parcheggi quindi mi parcheggio immediatamente appena arrivo nel primo parcheggio che trovo e dico e adesso cosa ho sbagliato? Perché si è ricongelato? Forse non dovevo passare i terci cristalli per spostare il ghiaccio che si era sciolto che comunque non mi permetteva di vedere perché era tutto lì sciolto sul cioè mi sembrava la cosa più logica da fare forse dovevo tirarlo via con un panno forse dovevo tirarlo via con il grattuccino che uso per togliere il ghiaccio non lo so creatura forse un giorno lo scoprirò fatto sta che non lo userò mai più perché finché non troverò la soluzione non potrò più usarlo perché se mi creo questo problema è veramente orribile quindi ho deciso che in quella situazione lì la cosa migliore da fare era grattugiare via tutto così anche la cosa che spruzza o se ne sarebbe andata via quindi ho grattugiato tutto mi sono congelata le mani e ho ripreso il viaggio e finalmente dopo mezz'ora di viaggio perché poi stanno facendo i lavori su un ponte e lì hanno messo un semaforo lungo sulla salita e poi c'era un altro semaforo poi dopo peccato per i semafori rossi così così alla fine riesco ad arrivare al parcheggio blocco B dove avrei fatto il mio turno di lavoro perché ero al covid point ti lo dico quindi sono aspettato lì un po' in macchina come al solito quando vado al covid point faccio colazione in auto perché quando invece sono in ufficio sono non sono lontano dalle persone invece quando sono al covid point si è proprio a contatto con le persone positive e negative però non è che puoi mangiargli in faccia e non al massimo anche se poi ti dirò il mio pranzo comunque spero che tu ti stia immaginando la scena perché io lo sto facendo sto rivivendo i miei ricordi nella mia testa e ora sto andando appunto sto mangiando i toroncini allora il primo buonissimo quello con il cioccolato fondente è diventato il mio preferito poi mangio quello con il cioccolato al latte poi apro quello con l'incarto arancione e pensavo fosse il cioccolato bianco in realtà era tipo un cioccolato all'arancione non lo so comunque poi mi ricordo di prendere l'integratore perché ero dimenticato l'avevo solo messo in tasca tra una roba e l'altra l'integratore che si scioglie in bocca quindi non c'è bisogno di acqua e niente e vado all'interno dell'edificio sono stata tutte le sei ore all'accettazione è andato tutto bene c'erano delle cose che magari succedono di imprevisti che non sai come risolverle ma poi alla fine troviamo sempre il modo di risolverle e quindi ho imparato cose nuove ho parlato con persone come sempre mi è sempre utile ogni esperienza che faccio mi porta sempre a qualcosa di utile l'unica cosa è scoprire cosa ho sbagliato non ho ancora scoperto spero che tu lo sappia creatura perché devo scoprire cosa ho sbagliato con lo stiacciatore spray perché mi sarebbe utile almeno per questo mese fino a fine febbraio poi penso che al termine stop in poi non dovrebbe esserci più problemi di ghiaccio credo però per adesso mi serve tutte le mattine quasi tornerò ad utilizzare la mia acqua tipida che buttavo adesso mezzogiorno avevo un certo appetito quindi ho mangiato due morsi di pizza e subito dopo sono entrate delle persone quindi ho dovuto ingoiare la pizza con l'acqua perché poi insomma è giusto così però avevo troppa fame ti giuro quei due quei tre torroncini non mi erano bastati a sfamare a sfamarmi e quindi l'unica diciamo cosa negativa di quel turno di lavoro è che non riesco a pranzare di solito pranzo in auto finché qui ho tornato a casa ma mio papà mi ha detto che se mi fermo non mi fanno la multa e quindi dopo ho smesso di fare anche quello solo che aspettare fino alle due e mezza per pranzare per me è molto faticoso perché ho fame e poi inizio a sentirmi debole e quindi così poi ti racconto che mi sono fatta fare l'impegnativa per farmi la visita oculistica perché inizio a non vederci più niente e quindi molto probabilmente in futuro mi vedrai creatura con gli occhiali da vista eh già e poi che altre cose ti volevo dire niente poi ho finito il turno sono tornata a casa per strada non c'era quasi nessuno perché di domenica pomeriggio giustamente se ne stavano tutti a casa e poi quando sono tornata a casa sono mi metto sempre a riposarmi perché comunque erano dalle due di notte che non dormivo più ho riposato un po' però non sono riuscita a dormire a me piace stare tanto è il mio steaming dopo che ho passato una giornata in mezzo alle persone mi piace stare sotto le coperte con la testa anche proprio devo essere tutta sotto le coperte posso essere seduta o straiata ma devo essere tutta coperta proprio dalla testa ai piedi e quello è il mio steaming io sto bene così mi fa sentire proprio bene sono stata un'oretta così e dopo oggi sul computer ho comprato il regalo di compleanno per mia zia su amazon e poi ho fatto uno shorts per perché ho visto che sono molto belli e utili per stuzzicarvi e farvi vedere ehi guarda cosa puoi trovare in questo video ma te lo faccio vedere in 40 secondi di anteprima e poi dopo decidi se guardare il video completo come dice molto come idea perché tante volte tanti video li guardo proprio perché ho visto qualche shorts dove mi incuriosiva qualche suono o cose del genere e poi ho cenato e poi dopo sono andata a letto ho guardato un pezzo di un film che però non mi piaceva tanto non mi ricordo neanche il titolo veramente che all'inizio sembrava una cosa fantasy stupenda poi invece si è rivelato in un film tristissimo Alice e Peter mi pare che sia il titolo c'era anche la Julie però non ho idea di come sia finito ma era troppo triste cioè mi veniva veramente la depressione a guardarlo e quindi niente poi sono andata a letto e poi fine della giornata e ovviamente ho dormito con Sam e poi mi sono svegliata alle 6 anche se non avevo messo la sveglia e poi mi sono ritrovata ovviamente a stamattina che potevo dormire come giorno di ferie e invece non sono uscita perché mi sono svegliata alle 6 e basta e dopo ho cominciato la mia giornata in modo normale senza però andare a lavoro facendo video eccetera eccetera spero che questo video ti sia piaciuto Ilaria spero di averlo fatto come desideravi io ti auguro buonanotte spero di non aver parlato troppo e che i suoni del libretto si sentano magari sto un po' zitta e ne faccio un po' prima di salutarti va bene Ilaria spero di averlo fatto Buonanotte, creatura. Se vuoi richiedere altri video, fallo pure. Buonanotte, relax, ciao, creatura.